Emblematico il titolo di questo video, Pioli ha un bivio. Pioli non può e non deve sbagliare, non è facile, ma alla vigilia di due impegni sulla carta, ma solo sulla carta abbordabili, contro squadre della tabella di destra del campionato, deve riuscire a portare avanti il suo Milan, cercando anche però di effettuare un intelligente turnover, un turnover certamente condizionato dai troppi infortuni il Milan perde un giocatore ogni due o tre giorni. Su questo punto si discute tanto se ci siano delle responsabilità, se si vanno a vedere gli infortuni, il mal di schiena o l'infiammazione al tendine non dipendono certo dalla preparazione, Krunic si è fatto male in nazionale, però le longazioni di Calabria e l'infortunio di Kier, chiaro che aprono ancora qualche interrogativo, Pioli era stato chiaro, è uno degli elementi su cui dobbiamo lavorare all'inizio della stagione, l'aveva detto, per evitare i problemi dell'anno scorso, però problema muscolare per Messias, problema muscolare per Kier, problema muscolare per lo stesso Calabria. Adesso Pioli, indipendentemente da questo punto, quello che conta è Pioli che debba studiare la formazione migliore contro il Venezia. Appare evidente che Tomori non possa giocarle tutte. Appare evidente. Appare evidente che Diaz non le possa giocare tutte. però che chi mettere il ruolo di Diaz è totalmente scoperto a meno che si debba ricorrere e potrebbe essere una soluzione forte, impegnativa, ma addirittura Pioli potrebbe ricorrere all'unico giocatore che però non è mai partito dal primo minuto e parliamo di Daniel Maldini. La davanti, ancora Rebic, Rebic sta in condizioni stratosferiche, sta benissimo sul piano della testa, sul piano della gamba, sul piano della grinta, mai azzeccato, mai soprannome fu più azzeccato, sacro fuoco, Rebic, sacro fuoco, Rebic. Lea oggi è diverso perché nella partita non è di continua corsa, quindi può reggere bene. Lo stesso Selemeker, non mi è piaciuto molto nel match contro la Juventus, ma anche lui bisognerebbe ricorrere magari a Castiglieco, che sembra un po' fuori però dai progetti di Stefano Pioli, ma soprattutto è Diaz e Tomori. Potrebbe esserci l'inserimento di Florenzi a destra per non sconvolgere ancora i piani tattici che modificati nel match con la Juventus hanno fatto risentire al Milan, hanno portato al Milan una manovra non un po' faticata, soprattutto fino all'infortunio. Paradossalmente un aiuto per l'aspetto tattico del Milan. Quindi con Florenzi, a sinistra Teo Hernández ancora, gioca sempre lui o si può mettere Ballotouret e centrale chi? Gabbia, eventualmente si facesse riposare Tomori o Calulu, che per i dirigenti del Milan, per lo staff tecnico è più un giocatore da difesa centrale che da fascia destra, anche se a me è piaciuto molto. A centrocampo dovrebbe tornare Benasser con Tonali, buona la partita dei due, facendo riposare un po' che sì, che ha dovuto forzare, ha dovuto ritornare dopo una pausa lunga e ne ha risentito ieri alla terza partita. Il problema è proprio là davanti. Se le mecchiera ancora, sì, va bene, ma poi c'è anche Spezia e soprattutto Diaz, perché non mettere Daniel Maldini bisognerebbe o lasciare Diaz o cambiare l'assetto del Milan, magari in un 4-3-3. Ma abbiamo visto il Milan che quando cambia il suo 4-2-3-1 non è che raccolga dei grandi risultati. Non c'è Krunic che poteva giocare lì e quindi bisognerà vedere, si potrebbe avanzare Tonali, ma bisognerebbe mettere ancora Kessy e Benasser. Quindi sono scelte complicate, sono scelte difficili da parte di Stefano Pioli, che innanzitutto si augura di non perdere i giocatori, ancora giocatori, perché in questo momento ogni tre giorni il Milan perde un giocatore e questo non è possibile. Quale motivo? Motivo io sinceramente non lo conosco, ma a volte la casualità come per esempio il mal di schiena di Giroud. Lo stesso Giroud potrà essere recuperato per il match contro il Venezia? Potrebbe aspettare invece il match contro lo Spezia? Perché magari non è ancora al massimo della condizione Giroud? E in questo caso Rebic oppure Pellegri, un altro candidato a entrare dal primo minuto? Sono tanti, tanti gli interrogativi, tante le riflessioni alla vigilia di due partite che si annunciano, ripeto, solo sulla carta, più semplici. Rimane comunque la soddisfazione di aver visto un Milan con le solite qualità che emergono quando gli impegni si fanno difficili, quando gli ostacoli si fanno più duri. Le qualità sono la coesione, lo spirito di squadra e soprattutto un'identità di gioco, quella che permette di salvarsi nelle situazioni più complicate. Non era facile affrontare il Liverpool e subire un gol dopo pochi minuti e reagire. Non era facile affrontare la Juventus subire dopo quattro minuti un gol su errore sesquipedale dell'intera squadra e reagire. Quindi su questo punto il Milan ci lascia tranquilli. Ora ci si attende dai giocatori del Milan questa continuità anche con le squadre. Ricordiamo dopo i primi 13 punti l'anno scorso, quattro vittorie e il Parigi con la Roma ci furono dei passi falsi con Genoa, Verona, sembrava che il Milan potesse staccarsi. Non dimentichiamo che il Milan ha sicuramente l'Atalanta, ma oltre l'Atalanta nelle prossime partite dovrà affrontare il Venezia, lo Spezia, il Verona, il Bologna, e il Torino prima di Roma e Inter. Quindi partite che possono permettere con una squadra concentrata, con una squadra motivata, con una squadra che possa effettuare il turnover di tenere, mantenere e magari rafforzare l'alta posizione di classifica. Dipende molto dal Milan e soprattutto dalla sfortuna sotto forma di infortuni e dalla bravura, dall'intuizione, dal coraggio, ne ha sempre dimostrato, di Stefano Pioli. Bisogna essere come un farmacista col bilancino, mettere le dosi giuste perché la medicina poi abbia successo e ci siano gli effetti voluti. Dipende molto da Pioli, dipende molto dai giocatori, dipende molto dal recupero degli infortunati e soprattutto di non perdere altri giocatori, cosa fondamentale. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti.